Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi più passano i giorni e più si scoprono grandissime novità per quanto riguarda il futuro di Fortnite oramai siamo nel pieno delle 14 giorni d'estate che non devono assolutamente farci togliere lo sguardo da quello che è in realtà il grandissimo evento della season numero 9 di cui oramai siamo prossimi è stato scoperto ragazzi qualcosa relativo alla skin singolarità ne parleremo in questo video parleremo anche ragazzi dello shadow pack tutte le informazioni complete dettagliate abbiamo anche un gameplay delle skin in gioco quindi vi dirò tutto quello che c'è da sapere ma ragazzi come vi anticipavo svelati i caschi come sapete 5 caschi da trovare nella mappa non appena arriveremo al novantesimo fortbite ve li faccio vedere e se abbiamo tempo nuova granata immagini nuove in alta definizione di quella che sarà una grande rivoluzione nelle granate in fortnite ma prima voglio però ringraziare tutti coloro che mi supportano con il codice creator XIODERONE grazie di cuore ragazzi per sciopazzare di prepotenza con il mio codice mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live ma prima ve la devo fare ve la devo fare la domandina ragazzi la domandina ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qui sotto e sono sempre sempre meravigliosi e tantissimo domanda da un milione di dollari qual è il tuo pack preferito oramai lo conosciamo tutti lo shadow che sta per arrivare ma c'è anche il frozen legend e il lava legend se voi doveste scegliere il vostro preferito qual è io i primi due non li ho presi ragazzi sebbene la mia skin preferita sia il ranger dell'amore e non mi dispiace nella versione frozen secondo me lo shadow pack è tanta tanta roba ragazzi staremo ovviamente a vedere ma quindi ciancio alle bande e vado alle ciance andiamo subito su gli effetti li ho presi li uso ragazzi andiamo subito a vederlo ragazzi eccolo qua eccolo qua il nuovo shadow legend pack qua visto in una versione molto più in alta definizione le tre skin oramai le conosciamo tutti ma voglio farvi vedere alcune immagini interessantissime e rispondere alle vostre domande innanzitutto come sappiamo dietro di me c'è la copertura confermata la copertura l'abbiamo anche nel gameplay le tre skin le conoscete tutte tutti i tre backpack mentre ragazzi il piccone sembra non essere incluso nel pack ma sarà shoppabile nel negozio come se fosse un normalissimo piccone è una notizia molto particolare che ho preso da un leakers che è veramente il top al mondo e purtroppo mi sa che ci ha azzeccato abbiamo delle immagini in alta definizione delle skin shadow bird che sarebbe falco dell'ombra fly light live eclipse part of the sun soldier set vola nella luce ma vivi nell'ombra in soldoni abbiamo il perfect shadow quindi l'ombra perfetta become the ominous shadow no so e poi abbiamo shadow school ragazzi quindi la versione dark della skin che tutti conosciamo eclipse the world with stylish domination quindi ecclissa il mondo con stile tanta roba queste tre skin ragazzi ma per lo store di playstation 4 credo per voi amici che giocate dalla playstation sappiamo che la data di uscita ragazzi è il 27 giugno quindi oggi la cosa un po incredibile perché qua si sta veramente vociferando sul discorso grano store playstation 31 dollari e 95 assurdo ma alcuni dicono che costerà 25 euro altri dicono che costerà 20 euro ragazzi purtroppo non è ancora ben chiaro le uniche informazioni che abbiamo arrivano dall'impero del sollevante ragazzi quindi di là che come vedete hanno già disponibile questo pack qua vediamo appunto lo store di un probabilmente penso sia un giocatore da mobile questo store che oltre ad avere ancora lo starter pack di questa season ha disponibile per 2160 yen il pack che dovrebbero essere circa 25 euro ma come vi anticipavo ragazzi andiamo a vedere un secondo molto molto velocemente è sempre un casino trovarla maledizione eccolo qua ragazzi nello nel game le tre skin ragazzi come sempre tanta tanta roba un conto e vederle disegnate un conto e vederle proprio in gaming tanto quindi ragazzi speriamo che questo pomeriggio verso il primo pomeriggio di solito verso le 15 le 16 esce speriamo che sia disponibile anche per noi so che dovrebbe arrivare prima di tutti in francia non che per parlando dell'europa non chiedetemi perché perché non ne ho idea devo dire che non sono male a queste skin le immagino con la copertura nera di john wick secondo me ci stanno davvero benissimo le armi con questo set eccolo qua il piccone lo stark splitter ragazzi che come vi dicevo potrebbe non essere incluso nel pack e poi ovviamente in chiusura ombra ammantata che va appunto a terminare il set perfect shadow se volessimo essere più precisi ma andiamo avanti ragazzi ho perso la webcam a lei ma andiamo avanti ragazzi sono tornato non è facile non è facile sto imparando diceva voi a fare gli effetti delle transazioni raga non è facile ed eccoci qua ragazzi siamo già arrivati alle allegramente alle nuove versioni le nuove i nuovi stili della skin singolarità 90 fortbite necessari per sbloccare questa skin quindi regalata in poche parole come vi anticipavo nel video di ieri 5 gli stili personalizzati da recuperare trovando dei caschi in giro per la mappa e questi caschi sono per l'esattezza al picco polare ragazzi dove prima era presente il castello lo vedete la quel coso viola ci darà la versione drift quindi come quello di alla deriva il secondo casco invece si trova in questa piccola piattaforma di fronte alla statua d'acciaio di neo inclinata ci darà invece la versione del dur burger quindi colori gialli arancioni e azzurri il terzo casco invece si trova verso sponde del saccheggio più precisamente voi immaginate di avere quale fabbriche da questa parte come vedete c'è il casco appoggiato ci darà invece la versione del pizza pit quindi il nostro mister tomato quarto casco ragazzi lo troviamo invece nell'impianto a pressione rosa e ci darà la versione dell'orsetto team leader cuddle chiamato in inglese ragazzi quindi skin che regaleranno ovviamente stili persone caschi che regaleranno stili personalizzati ma come vi avevo anticipato ragazzi volevo anche mostrarvi delle immagini interessantissime riguardanti la granata aerea che sarà disponibile ci dicono dopo la settimana numero 10 sì perché ci saranno 14 giorni di pausa tra il termine delle season delle settimane scusatemi e l'inizio della season 10 quindi dal da metà luglio al 31 luglio passeranno una decina barra 14 giorni questa granata aerea strike ancora non abbiamo delle immagini dei gameplay in game solamente dei fotogrammi presi e ringraziando ovviamente i leakers che si preannuncia essere un qualcosa di tutto nuovo probabilmente uno strano attacco aereo che ancora purtroppo noi non possiamo conoscere io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato anche questo video fatemi sapere innanzitutto se poi prenderete oppure no il nuovo bundle il nuovo shadow pack vi ricordo che oggi ci saranno le sfide e quindi noi ci vediamo tra poco in live ciao ciao